Sì, è una bella stagione, ero convinto dopo le selettive e anche dopo la prima gara di Paroldo di riuscire magari a salire sul grandino più alto del podio, ma sfortuna cingoli e vabbè è andato bene lo stesso. Ringrazio il mio team, la UFO che mi ha sostenuto tutto l'anno, Jet, Omega e sono contento così. L'anno prossimo correrò nel 125, spero anche l'europeo e spero anche per l'anno prossimo di fare un bel campionato.